Benvenute ad Allenati con Collistar, un programma di allenamento su misura per te che unisce workout funzionali a prodotti specifici per una routine total body. Ciao, in questo secondo allenamento vedremo un circuito total body non stop. Allenare infatti diversi muscoli del corpo ha un effetto molto potente su tutto il metabolismo. Un circuito total body non stop va fatto cercando di mantenere il ritmo alto, è necessario non fermarsi mai. Questo vuol dire che devi prepararti a sudare. Gli attrezzi necessari per questo workout sono tappetino, pesetti e lube band. Siete pronti? Partiamo! Il workout di oggi è composto da 4 giri non stop dei seguenti esercizi. I primi movimenti di questo allenamento sono 20 affondi alternati dietro. Mi raccomando, tieni il busto leggermente proteso in avanti e fai un passo molto lungo. Dopo aver eseguito 20 affondi passiamo a 30 step touch con lube band. Ne eseguiamo 3 verso destra e 3 verso sinistra fino a totalizzarne 30. Come terzo esercizio prendiamo i pesetti ed eseguiamo 12 press. Cerca di oscillare col busto il meno possibile e di mantenere un movimento lineare. Passiamo agli addominali. 15 curl up. Il curl up è leggermente diverso dal crunch perché non va a schiacciare la schiena sul tappetino. Ogni volta che sali resta sospesa per 2 secondi. Terminiamo con 10 touch kick laterali. Unisci uno squat ad un calcio laterale. Ne esegui 10 verso destra e 10 verso sinistra. Riprendi subito da capo appena hai terminato. Cerca di limitare il riposo. Dopo questo allenamento intenso mi raccomando non dimenticare di fare un po' di stretching. Appuntamento al prossimo video con un allenamento di tonificazione molto intenso. Grazie a tutti.